Le elezioni di quest'anno sono state particolarmente complesse, però la macchina dello Stato ha fatto fronte a tutte le difficoltà, nonostante il Covid-19, diciamo che si sono svolte in tutta sicurezza. È stata una prova molto impegnativa per tutti noi. Le operazioni di voto si sono svolte in tutte le 61.622 sezioni ordinarie, abbiamo le sezioni ospedaliere circa 200 e poi i seggi speciali che hanno raccolto a domicilio il voto e abbiamo avuto circa 3.097 richiesti. di poter votare a casa per coloro che erano in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario.